buonasera amici benvenuti benvenuti stiamo subito in diretta subito con l'ospite stasera vogliamo fare una super mega diretta di quelle wow 30 minuti proprio canonici quindi io ho il conto alla rovescia sono già 12 secondi che parlo buonasera Cristian Rovier buonasera Alex Meticelli e buonasera al nostro ospite from Ingria with love mister Andrea Cane eccolo buonasera a tutti ciao a voi a tutti i telespettatori anzi radiospettatori amico amico grande sostenitore di Ingria e di Epo Radio e consigliere per la regione Piemonte ma stasera siamo qua per fare due chiacchiere e soprattutto per portare gli auguri a tutti voi e per avere qualche novità perché Andrea è sempre attivo e impegnato nel sociale comunque sul territorio mai fermarsi mai fermarsi mai fermarsi esatto proprio oggi abbiamo fatto con un altro consigliere comunale di Ingria Talao eh alias Talao sarebbe Federico Bianco Levrin abbiamo fatto una gita in quel di Castellamonte a trovare la nostra diciamo più antica centenaria eh sarebbe Angela Delfina Bianco Levrin pensa 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 che nome che che cognome molto utilizzato a Ingria che è nata il 25 novembre del 1920 proprio a Ingria era contentissima abbiamo preso un caffè insieme abbiamo fatto qualche foto mazzo di fiori dedica e non nascondo che c'è stato anche un momento di commozione insomma sentire parlare una signora che ha cento anni di esperienza e ricorda come se fosse ieri eh quando ahimè all'età di sette otto anni ha dovuto eh scendere giù eh da Ingria poi per andare a Castellamonte non è che è andata in Australia però mi raccontava come in quel viaggio che all'epoca era comunque un piccolo viaggio per per una bambina come lei eh aveva appunto pianto per per tutto il tragitto perché lei non voleva andare via da Ingria e soprattutto non voleva andare via da da sua nonna perché aveva sua nonna lì e quindi capite che è stato per me un momento emozionante ehm questo è il primo l'altro momento emozionante di oggi è stato eh ritrovare dopo tanti mesi il piccolo Loris Augusti che eh è il bambino che eh come tutti ricorderanno a inizio anno è andato fino a negli Stati Uniti in Florida a farsi operare per un problema per una patologia alla gamba eh vi ricordate bene che c'era stato appunto una raccolta di fondi in tutto il canavese e vedere appunto questo bambino saltellare scorrazzare a casa tutto felice è stato veramente un bel regalo di Natale non solo per me ma per tutti i canavesani che hanno contribuito a a portare a termine questa battaglia insomma veramente eh una giornata positiva per me sono due immagini molto belle molto spera una umile una è molto speranzosa che dà molta speranza sul nuovo anno però chiediamo anche a te questa sera come abbiamo chiesto ieri anche il nostro ospite da Roma eh come cosa cosa desideri e come vedi realmente quello che può capitare il prossimo anno e cosa ti auguri anche ma allora cosa desidero eh ovviamente la domanda eh abbastanza scontata è anche la risposta cioè desidero come penso tutti voi che questo incubo che è iniziato proprio mh all'inizio del 2020 eh ed è diventato diciamo una mara realtà a inizio marzo eh finisca abbia un termine che poi questo termine sia perché finirà il contagio perché ci vaccineremo tutti insomma l'importante che finisca questo eh periodo periodo più più buio e grigio che appunto la gente si possa ricordare penso dalla fine della seconda guerra mondiale in poi perché eh questa è una vera e propria eh guerra mondiale che ha messo in difficoltà le popolazioni di tutto il mondo quindi non è un problema che stiamo avvertendo solo noi eh in Piemonte ma eh dappertutto anche noi a Ingria nel nostro piccolo anche se siamo uno dei pochissimi comuni rimasti covid free eh in Italia perché non abbiamo avuto per fortuna nessun contagiato però anche noi nel nostro piccolo abbiamo comunque sofferto questa reclusione a casa questa diciamo impossibilità di di poter avere quella socialità di incontri con la famiglia con con gli amici le feste le cose che prima erano più semplici che a volte magari alla lunga un po' ci annoiavano anche adesso non so parlare di una serata al pub con gli amici fino a tardi sembra la cosa più bella del mondo no è un'utropia non parliamo poi di di andare in discoteca o meglio ancora a una serata di Alex Metticelli in disco mobile insomma quello sarà io e Cristian caro Andrea caro Cuscrit io e Cristian abbiamo fatto un film sul mondo della notte adesso non lo stiamo proiettando lo facciamo solitamente su quel televisore c'è il film del mondo della notte in questo periodo praticamente è uno schermo lo accendiamo perché molti ascoltatori ce lo chiedono questo film facciamo vedere il film che abbiamo fatto scritto e girato io e lui sul mondo della notte esatto immagini forti eccolo qua te lo faccio vedere in anteprima vedi questo sono emozionato le serate guarda i dj questo è il mondo della notte ieri oggi e domani vedi come ci stiamo muovendo questo è il mondo della notte vedo sabbia però penso che era molto divertente vedo sabbia su sabbia molto bello questo è proprio il tema poi del prossimo anno del mondo della notte quando riapriremo sarà sarà più o meno così la grazie anche a tutti quelli che mi hanno chiesto di far vedere le scene molto bene penso che avete un futuro alle iene tra l'altro ci chiedono gli ascoltatori il che cosa hai andrea dentro quell' armadio alle tue spalle un cadavere o dei soldi ma guarda mi fate una bella domanda perché all'interno di questo armadio tra le cose che mi possono venire in mente c'ho la mia collezione di di topolini quindi tutto quello che erano paperino topolino che era la mia passione dall'età di l'ho mandata avanti dall'età di sette anni fino all'età di 14 15 anni quindi ce n'è veramente tantissimi penso di averne migliaia e non ho voluto butterli via ma li ho voluti tenere tutti in questo armadio quindi insomma se c'è qualche appassionato che vuole ogni tanto venire a leggerli qua non mancano le letture ma ogni tanto li leggi ancora qualcosa tiri fuori e leggi no sinceramente non ho più avuto tempo non ci ho più pensato però adesso che mi fai venire in mente potrebbe essere un ottimo metodo per passare parte di queste vacanze che tanto non è che possiamo fare più di tanto quindi nei rari momenti liberi potrei effettivamente rispolverare questi vecchi topolini insomma tra l'altro ti salutano già pietro Massa Jack Tiziana eh Renzo tanti saluti e tanti auguri ti portano Carpandre e beh comunque la notizia di Loris tra tutte vabbè ovviamente anche dell'anno linea di cent'anni però notizia di Loris è una bellissima notizia anche tutto quello che siamo qui a dire questa sera io sono molto contento ti ringrazio per questa mezz'ora tra l'altro abbiamo ancora 22 minuti a disposizione perché siamo proprio stretti e prima di passare alla fase sai chiacchiere sempre piacevoli tra amici e con i radioscoltatori se vuoi dare un messaggio da parte della regione insomma dal tuo ruolo per chi ci segue questa sera e poi ci sciogliamo la cravatta e andiamo avanti sì questa sera ho poche cravate da sciogliere sono molto casual diciamo beh cosa dire da parte della regione eh abbiamo portato avanti eh tantissime iniziative mi viene in mente un comunicato stampa proprio di oggi sul fatto che in me dobbiamo per una volta ancora per l'ennesima volta ribadire il fatto che questo sia l'annus horribilis che appunto verrà ricordato anche per il fatto che eh le montagne piemontesi quindi tutto ciò che è turismo montano commercio montano abbia avuto appunto uno svantaggio economico non indifferente molto più per esempio del mare perché come tutti sappiamo quest'estate bene o male un po' di festa un po' di vacanze siamo riusciti a farle eh l'ultimo tema proprio di ieri è stato un chiarimento eh da parte della appunto della federazione degli sport invernali che ha chiarito che nemmeno insomma diciamo i nostri atleti i nostri giovani atleti che fanno agonismo potranno in questi giorni eh allenarsi nelle nostre piste da sci quindi è stato un ennesimo impatto negativo verso le montagne verso non solo i gestori delle piste da sci ma tutto ciò che è presente in montagna quindi anche solo banalmente quegli alberghi che erano stati prenotati per i nostri giovani atleti perderanno anche questo eh questo minimo importo che poteva essere comunque un ristoro importante per queste vacanze che poi nessuno potrà fare ecco questa è una riflessione che eh ci tenevo a fare soprattutto legata al fatto che molti pensano che eh come dire la montagna sia un vezzo lo sciare sia un vezzo che sia solo destinato a pochi fortunati che possono rinunciare beh quello sì anche a me piace sciare certo rinuncio non piango a sciare però pensiamo anche a tutte quelle famiglie quelle centinaia di migliaia di persone che vivono del turismo di montagna e poi con quegli introiti devono pagare la la propria vita delle proprie famiglie dei propri figli che rimarranno a bocca asciutta e hanno un bel punto interrogativo verso il loro futuro quindi insomma eh a volte bisognerebbe essere anche un po' più lungimiranti eh quando si governa e questa è un po' la la nota negativa per quanto riguarda la regione noi cerchiamo di di seguire tutte le tematiche ovviamente la sanità e prima di tutto eh adesso fra pochi giorni partiranno i primi vaccini eh su anti covid insomma anche qua in Piemonte ci sarà una prima tranche e poi si andrà avanti in base a le priorità quindi ovviamente prima gli anziani che risiedono nelle RSA nelle case di riposo e poi si andrà mano a mano a scaglione in base appunto all'età no quindi insomma questi sono sono gli argomenti magari un po' più così delicati però ci fanno ricordare che la priorità è questa e poi speriamo il prossimo anno di parlare finalmente di ripresa del turismo ripresa eh di tutte le attività culturali di intrattenimento eh che tutto possa ripartire mi viene in mente il fatto che il prossimo anno a Ivrea è vicino a a dove trasmettete voi in diretta eh dovrebbero esserci tra i tanti avvenimenti anche gli europei di canoa e e speriamo che anche questi possano essere fattibili questo sarà un grande evento che porterà moltissimi atleti e turismi e turismo all'interno del nostro territorio quindi insomma questo è uno solo dei tanti esempi che mi vengono in mente per il prossimo anno dai speriamo io penso positivo anche perché penso che peggio del 2020 non si possa fare infatti il 2021 sarà gioca facile basta che accada una cosa positiva ed è già un grande anno gioca facile certo sembra quella pubblicità come dire ti piace vincere facile ce la ricordiamo dai sì non vediamo l'ora di rifare una serata tutti insieme dai a Ingrid in giro e di rivedere i nostri amici tra l'altro ne approfitto io su quello che ha detto Andrea perché il 29 di dicembre abbiamo terminato oggi l'editing del video uscirà il singolo mio con allealo che si intitola appunto dpcm ma abbiamo trovato noi la soluzione vuol dire danza più che mai ed è un po dedicato a tutto il mondo della notte io vi invito a vederlo perché piccolo spoiler è un po un un remember un ritornare c'è un testo molto semplice delle immagini che invogliano le persone proprio a ricordare cosa abbiamo fatto e a cosa vogliamo tornare a fare ancora meglio quindi nulla di migliore che legarsi alle parole che ha detto appena adesso Andrea e soprattutto quello che diciamo tutte le fere con Cristian quindi è una bella cosa poi ti farò vedere l'anteprima Andre ottima idea ottima idea non vedo l'ora devo dire che avete sempre delle idee geniali insomma da dalla gara nazionale di ruti a dpcm insomma ragazzi veramente speriamo di tornare di nuovo e questa volta verrò anch'io a vedere così vivrò anche la vostra ingria in questa gara famosa a livello ormai nazionale dei ruti che avete invento perché se vieni a ingria poi minimo torni a casa che hai una una casa in affitto e te lo dico perché io te lo dico qualcuno come minimo come come stai vi invoglio vi invoglio ancora di più a venire a ingria no no non ci accavaliamo scusate ma mi arriva un ritorno sono un po indifferita no vi invoglio ancora di più a venire a ingria per alcuna delle news che faremo uscire entro fine anno e che adesso speriamo che non ci sia la finanza in ascolto ma che ci siamo messi proprio a stampare denaro come dire ovviamente non è vero denaro ma sono dei buoni che abbiamo voluto diciamo in base diciamo agli ultimi avvenimenti vari ristori che comunque sono previsti per i cittadini abbiamo voluto appunto stampare dei dei facsimili di buoni acquisto per tutti i nostri residenti e che potranno spendere nei negozi della balsoana quindi abbiamo avuto questa idea è chiaro che abbiamo potuto farlo noi perché non siamo tantissimi residenti fosse diciamo un comune come come ivrea andrebbe a indebitarsi per i prossimi 50 anni però comunque un segnale del fatto che stare in un piccolo comune di montagna isolato non è non è sempre uno svantaggio anzi i vantaggi sono sono molti quindi così era giusto per anticiparvi questa chicca che non abbiamo ancora diffuso sui giornali e anche da parte del sindaco che magari ci sta ascoltando volevo così darvi quest'anteprima grande anche igor tutta la giuta ingria è bellissima ci scrivono vedi che ormai siamo è famosa è famosa davvero ragazzi è famosa e vince a man bassa anche qualsiasi scontro tra i loghi gli stemmi qualsiasi cosa ragazzi un quarto d'ora amici abbiamo ancora un quarto d'ora con andrea perché davvero bravo bravo bene come state passando il natale a ingria c'è descrivici qual è il paesaggio in questo momento da voi come come proprio come paesaggio vedete beh allora innanzitutto prima che mi dimentico volevo salutare giampietro massa che mi sta appunto salutando da dalla chat di eporadio nei commenti e per il resto cosa dire attualmente la neve che è caduta qualche settimana fa si è sciolta quindi adesso il paesaggio diciamo vediamo un po la neve in lontananza sulla sommità dei monti che vediamo appunto da dai nostri 800 metri per il resto mi parlavi del natale e ho sentito anche ale che così accennava di di sfide no tra i vari comuni effettivamente c'è questa sfida che è stata anche una gran belle idea che hanno avuto i gestori della pagina che si chiama simboli e curiosità del mondo che da qualche mese sta facendo sfidare tutti i comuni della provincia di torino a colpi di like quindi banalmente sono riusciti a creare un circuito che mano a mano ha fatto eliminatoria in pratica le eliminatorie più grosse si votava in base alla tipologia di faccina quindi la faccina che piange che ride cuoricino eccetera e ingria è riuscito arrivare incredibilmente agli ottavi di finale e il destino ha voluto che il nostro ottavo di finale si terrà proprio il giorno di natale quindi diciamo che noi griesi il 25 dicembre quindi fra fra due giorni esatti dalle 9 di mattina alle 9 di sera saremo anche impegnati a far mettere il like quindi la faccina che penso che sarà il cuore in questo caso la faccina che ride va beh quello lo 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 diffonderemo poi durante la giornata ed è un'idea simpatica perché comunque è riuscita a coinvolgere tanti residenti di piccoli paesi è stata anche un po un'analisi sociale particolare perché ha visto come i residenti gli abitanti di piccoli comuni siano molto più appassionati dei loro territori rispetto a quelli grossi se vi faccio solo l'esempio dell'ultima sfida che abbiamo vinto noi l'abbiamo vinta contro un comune di circa 30 mila abitanti che è carmagnola quindi capite che sulla carta la sfida fra un comune di 45 residenti e uno di 30 mila e beh una è una sfida impari no è chiaro che avrebbe dovuto vincere carmagnola però col fatto che ingre conosciuta e amata è un paese diciamo che mette positività insomma ci siamo fatti conoscere nel tempo quindi siamo riusciti a vincere questa piccola sfida che poi ricordiamo un gioco però noi ci crediamo il 25 ci sarà di nuovo questa sfida online e quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedranno questo video appunto ribadisco di collegarsi sulla pagina simboli e curiosità del mondo e mettere poi l'apposito like a favore di ingria quindi vediamo un po cosa da ingria era così tra l'altro renzo scrive amo ingria ho fatto le corse in montagna giro delle contrade mi manca la scalata di punta arbella pensa pensa quanta gente a nostalgia di venire ingria ma voi siete diciamo così e l'arbella si l'arbella manca anche a me perché erano era una delle vai 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 sì adesso non ho forse non ho sentito l'ultima parte della domanda ma sentivo che prima si parlava dell'arbella si è bell'arbella personalmente era una delle poche diciamo scuse che avevo durante l'anno per per allenarmi è una gara abbastanza impegnativa perché parte dagli 800 metri del nostro capoluogo e poi va su avanti di mille metri fino appunto la la vetta dell'arbella è una gara abbastanza massacrante insomma per farla un minimo bisognava essere allenati e quest'anno visto che non ci hanno più permesso di fare nessuna gara devo dire che anche il mio allenamento già già era diciamo ai livelli minimi è stato toccato al fondo ho preso qualche chiletto quindi spero veramente che il prossimo anno si possono di nuovo fare queste gare perché insomma alla fine servono sia per tenersi in forma sia per far conoscere il territorio anche all'esterno delle nostre valle insomma c'erano veramente tante persone che partecipavano insomma gli ultimi anni avevamo una media di circa 150 gareggianti che per noi sono veramente tanti ebbè ebbè siamo riusciti io ricordo la penultima edizione della gara di ruti a portare 400 persone figurati con una gara così comunque bella e importante come può essere quella che tratta di sport tra l'altro ci batteremo nel 2021 per far diventare la nostra gara di ruti sport nazionale ecco dopo il coni saremo il burpi noi quindi ci inventeremo qualcosa ci inventeremo qualcosa non sarebbe male non sarebbe male tra l'altro nel 2021 ci sarà anche la finale mondiale dei comuni fioriti che è stata un altro appuntamento che quest'anno abbiamo dovuto saltare proprio a causa del covid quindi speriamo di riuscire assieme al comune di alba a partecipare a questa finale che poi avrà appunto l'appuntamento diciamo della premiazione addirittura in canada quindi insomma speriamo di riuscire a fare anche un giretto in canada insomma la speranza di tutti che si riesca veramente a tornare a una normalità insomma che tali se vi siete vi siete accavallati molto bene molto bene lo apprezziamo molto vi salutiamo le persone chi manda gli emoticon ad andrea e tutto quanto sappiate che non riesco a io in regia però vi ringraziamo per la presenza e soprattutto il grande calore che avete in queste reti soprattutto in queste due serie dove ci sono stati alessandro e dove questa sera c'è andrea che sta un attimo con noi a fare due parole a dare un po il punto della situazione soprattutto portare la sua simpatia il suo calore il suo impegno per il piemonte insomma per tutti noi vi ricordo che poradio in piemonte se non avete ancora capito però ringraziamo tutta italia che ci segue tutte le sere e comunque è con noi e ci fa piacere dai ci fa molto piacere poi roma è una anche che ci porta su caro rovie quindi benvenga allora abbiamo ancora sei minuti anzi sette minuti col buon andrea poi giustamente lo lo liberiamo lo liberiamo come passerà il natale andrea ovviamente nella tua ingria ma hai qualche programma hai qualche farai qualcosa di particolare stai già pensando a qualcosa per il nuovo anno ma allora ovviamente natale con i tuoi quindi sarò con i miei genitori classico pranzo di natale poi beh messe di mezzanotte non si potrà fare ma si va quando si deve andare insomma se la faranno domani alle 8 se andrà alle 8 sarà domani alle 9 sarà alle 9 e se sarà al 25 andremo il 25 insomma è sempre importante anche capire qual è il vero significato del natale che non è solo il fatto di bere mangiare fare baldoria ma insomma ha un significato molto importante che non bisogna appunto mai mai tralasciare per il resto dopo natale continueremo a lavorare avremo comunque io come consigliere regionale continuerò avere impegni ci saranno comunque sempre commissioni consigli appuntamenti sul territorio e poi per il 31 non lo so so che degli amici che gestiscono una web radio forse faranno una diretta quindi potrebbe essere un bel modo di passare la serata non so cosa cosa dice di gemetticelli sì sì conosco due ragazzi che intratterranno il 31 in live e faranno anche uno spettacolo è rimasto piantato uno spettacolo periodo tecnico per i no ci sono ci sono sono qua vi sento e l'allamel galaxy dice grande andrea bravi tutti auguri di buone feste a tutti quanti quindi precisi precisi noi si saremmo comunque saremo presenti e carichi potremmo farlo entrare in diretta e visto che avremo tanti ospiti chi vuole entrare in diretta e portare gli auguri ben venga proprio nella piena facoltà dell'amicizia perché vi ricordo che abbiamo anche amici di speaker senza confini sempre presenti quindi cioè siamo proprio a 360 a tutto tondo ragazzi a tutto tondo e non solo andrea al 31 anche domani sera il 24 faremo una live col tazioni cioccolata caldo quello che dir si voglia dalle 21 e 30 fino a mezzanotte e il 25 un piccolo dj set con un po' di fuochi d'artificio anche lì ma poi il 31 ci sarà questo gran galà dove appunto abbiamo ricevuto una donazione per fare in diretta stream dei fuochi d'artificio per le persone che sono un po' più sfortunate non si possono permettere anche di festeggiare hanno donato anche dei soldi per dei pasti però ci tenevano anche a far vedere un po' di un po' di spettacolo insomma per tutti aspettiamo c'è questo ritorno mi sembra un po' new york no con il nostro mi senti andrea ottimo non vedo l'ora di vedere questi fuochi d'artificio virtuale a distanza mi sentite forse c'è un po' di problema di connessione ok ok io io vi sento se vi sento ok ti lasciamo a te allora fare i saluti andre così almeno non ti interrompiamo ok va bene quindi che dire se mi sentite ancora vi anticipo gli auguri gli auguri di Natale sì va bene allora spero che sia comunque un Natale sereno in famiglia per tutti insomma chiaramente sarà un Natale diverso da da quelli passati però speriamo che siano veramente gli ultimi giorni di questo incubo che ci ha restituito il 2020 e che possiamo veramente guardare a un 2021 migliore l'abbiamo già anche detto sarà un anno che magari gli piacerà vincere facile perché fare peggio che il 2020 penso sia veramente impossibile però la speranza è veramente di di rimanere uniti anche a distanza e poter riprendere il primo possibile a fare le cose che prima erano normali e penso adesso avranno ancora più valore insomma anche quelle piccole cose che facevamo tutti i giorni diventeranno delle grandi cose ancora più apprezzate quindi cerchiamo di di trovare tutti insieme almeno questo questo tono diciamo positivo no nel senso di apprezzare di più le piccole cose della della vita di tutti i giorni insomma diciamo questa riflessione ve la ve la lascio a voi e a tutti i radiospettatori insomma anche solo per il fatto di poterci poi rivedere a delle serate di discoteca mobile o comunque di poter fare festa qualche volta tutti insieme sarà un qualcosa di di eccezionale no quindi mettiamo questo spirito di 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 positività semplice ma penso che diventerà comunque una una realtà io penso positivo comunque quindi auguri a tutti voi di buon santo natale grazie ancora per per questo ennesimo invito sapete che quando volete io sono sempre disponibile sempre un piacere essere con voi amici di eporadio e grazie ancora per l'impegno che fate sul territorio per i nostri giovani del canavese grazie andrea grazie auguri anche te famiglia giustamente va detto salutiamo portiamo anche tanti auguri a casa tua portiamo gli auguri in tutte le case degli amici che ci seguono grazie andrea cane prima di tutto un amico un cuscrit per me è una persona impegnata h24 si può dire sul territorio auguroni io ero via stiamo ancora un attimo qua per salutare speriamo di ritrovarci a ingria a leggere tutti in topolino tutti insieme tutti insieme va bene quando volete non mi mancano ciao ragazzi grazie ciao 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 era l'ospite speciale di questa sera come vedete continuano le serate di auguri siamo giunti a 24 ore perché tra 24 ore esatte comincerà la diretta di Natale quindi domani sera desabiglie totale cioè magliette di lupen quello che volete tazza l'importante è una tazza tazzone con qualcosa di caldo dentro non oso immaginare come sarai vestito assolutamente io ovviamente per non prendere freddo tutta sera sarò in un certo momento come ho promesso ai miei fans con un accappatoio dove sotto non avrò assolutamente nulla quindi non subito non subito nella serata però durante la diretta poi chiederò al direttore metticelli di stoppare un attimo sulla sua faccia andrò a cambiarmi e arriverò con il l'accappatoio così con la con la tazza per per fare gli auguri io domani sera sarò molto più easy tutina tranquillo magari una felina ma ho comprato la cedrata ragazzi la cedrata mi piace un sacco quindi domani sera cedrata la spuma l'ho ricomprata della spumador però ha perso un po' il sapore quindi domani sera cedrata 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 buona cedrata per tutti buona cedrata ma ne avremo da dire perché dalle nove e mezza fino a mezzanotte ragazzi you be mine to the end of time e soprattutto ricordatevi che domani sera se volete aprire dei regali con noi vi inviamo il link per la diretta vi facciamo entrare in diretta con noi perché noi siete voi e voi siete essi e ci facciamo gli auguri potete aprire i vostri pacchi in diretta rovie aprirà il pacco certo di farti avere il mio regalo domani così lo potrei spacchettare in live per dire per esempio per esempio domani può succedere la qualunque quindi poi collegatevi mi raccomando come abbiamo detto da bravi cristiani andate alla messa in tutte le diocesi c'è un orario ovviamente chi alle 18 chi all'evento andateci e noi alle 21 e 30 qua presenti per farvi gli auguri tutti insieme per essere tutti insieme anche la vigilia di Natale e poi anche il 25 ci sarà lo sensation i fuochi d'artificio perché poradio ragazzi miei una radio che non vi molla è la radio 3.0 mentre gli altri vi fanno ascoltare le canzoni di Natale registrate noi le facciamo dal vivo dal vivo e non solo con la bocca ragazzi e non solo con la bocca non solo con la bocca esatto ricordate arriva signori noi vi ringraziamo per questa sera concludiamo così ci tenevamo ad avere anche Andrea a fare gli auguri domani sera tanto ci avrete dalle 21 e 30 a mezzanotte poi se qualche in qualche momento che si deve staccare io mi devo staccare comunque ci siamo siamo presenti pronti per questa maratona eravamo abituati alla vecchia TR avevamo un topo che teneva i cavi figuratevi qua che possiamo andare a online a qualsiasi arriviamo oltre San Giorgio cioè voglio dire pensa penso che l'altra sera ci commentavano non so dove dall'argentina rovie è diventato con pensieri sparsi uno dei re dell'india io sono contento ma il problema è che passate la bella musica ma il fatto che gli indiani è un pensiero sparso è quello che voglio chiedere a panjabi io vado in india a fare un tour spacco eh ragazzi io ve lo dico perché secondo me sì 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 il tour il basmati tour vai a fare signori grazie di tutto Cristian grazie Alex Metticelli e noi ci vediamo domani alle nove e mezza tutti insieme ditelo gli amici alle sorelle alle zie ai nonni ai cani ai cani a tutti praticamente domani anche bambini edizioni particolari c'è bambini vacanze qualsiasi cosa bambini scuola c'è un sacco di cose grazie a tutti ciao e che la radio sia con voi ciao